Salve a tutti e benvenuti al nostro nono episodio della rubrica Zitto e nuota. In questo episodio parleremo di cosa indossare per nuotare in acque libere in inverno in alternativa alla classica muta da nuoto. Il motivo per cui propongo delle alternative alla muta da nuoto è che hanno dei vantaggi di assetto, costo e nel mio caso sinceramente di comodità. Intanto vediamo che cosa intendiamo per assetto. L'assetto è la capacità che abbiamo di galleggiare, affondare o essere neutro in acqua. Parliamo di assetto positivo in generale quando galleggiamo, assetto negativo quando tendiamo ad affondare, neutro invece quando rimaniamo alla stessa profondità in cui ci troviamo. Nel nostro caso vogliamo restare in superficie, quindi vuol dire che galleggiamo senza ulteriore aiuto da parte della muta o senza ulteriore difficoltà da parte di ciò che indossiamo. In tal caso parliamo di assetto negativo. Riguardo il costo vedremo man mano i vari oggetti che propongo quanto costano. Per quanto riguarda la comodità è una cosa molto soggettiva, però io sinceramente preferisco avere delle cose addosso che non compromettono la mobilità della bracciata, quindi che abbiano un neoprene molto elastico o che non ci sia proprio neoprene sulle spalle. In questo caso un'altra alternativa, se vi piace tenere la muta, è la muta smanicata che non ha le spalle o quella che vi ho presentato l'altra volta che fa un po' di resistenza, però comunque ha una buona parte di neoprene morbido e ve l'ho fatto vedere nel video precedente. Bene, parliamo quindi delle alternative. A seconda della stagione ci si può vestire in un modo piuttosto che in un altro, senza dover passare per forza dal costumino a tutto l'abbigamento completo. A inizio stagione, quando inizio a sentire un po' freddo, indosso semplicemente un costumone di licra. Questo vi protegge già molto dalle meduse, può essere utilizzato anche in estate perché non fa molto calore, anche se fa comunque la sua parte perché l'acqua una volta entrata ha più difficoltà ad uscire, ha anche delle parti foderate, quindi abbastanza coprente, diciamo. Il costo di questo oggetto è sotto i 20 euro, l'ho acquistato su Shine, lo trovate anche su altri siti, anche intorno ai 15 euro, costa veramente poco e ci ho già notato parecchie volte, non ha ceduto per niente. Inoltre non essendo un materiale che deve rimanere attaccato alla pelle, anche se va un pochino largo appena appena, non succede niente, quindi si può anche deteriorare un po', in ogni caso non avete pagato molto. In aggiunta a questo, se l'acqua è infestata da meduse, che è un altro problema che ci può capitare spesso, utilizzo dei calzari, i neoprene, sceglieteli, questi li potete trovare anche su Amazon, dello spessore di un millimetro, ok? Non devono essere troppo spessi, altrimenti tendono a darci un galleggiamento troppo marcato dei piedi e quindi modificano l'assetto della nuotata. Questi hanno anche una parte un po' più stretta, un po' più su delle caviglie, in modo che l'acqua una volta entrata ha difficoltà ad uscire e quindi non si riempiono ad acqua e non diventano una barca e ci danno fastidio ai piedi. Il costo di questi su Amazon è sotto i 7 euro. In più, se vogliamo coprirci ulteriormente, sempre nel caso di meduse, ma ovviamente li possiamo utilizzare anche in caso di maggiore freddo, esistono dei guantini da nuoto, ne esistono tantissimi modelli, ovviamente io mi trovo bene con questi che hanno le dita aperte, questo modello in particolare è anche palmato, se non li volete palmati basta prendere un paio di guantini normale e tagliarci le dita, oppure il consiglio che vi do se volete coprire tutta la mano e prendete i guantini completi, fate un buchino sulla punta delle dita, altrimenti se entra l'acqua nel guanto ed entra, si riempiono d'acqua e non riuscite più a nuotare correttamente perché con la mano state ad agguantare il guantino piuttosto che a pensare a nuotare. Anche questi qui li ho visti, io li avevo presi su Amazon, ho visto che ci sono anche su Temu, sempre intorno ai 7 euro e anche questi ce liete ovviamente di un millimetro. Per quanto riguarda le taglie di calzari e guanti, utilizzate per i calzari, riportate il numero di scarpa che più o meno corrisponde alle sml che sono le possibili taglie dei calzini, mentre per i guanti, anche qui seguite sempre la guida delle taglie, perché se il guanto è troppo largo, poi vi entra più acqua oppure vi scappa e non vi fa nuotare, è meglio un po' più stretto che un po' più largo, anche qui di solito sono sml, queste sono le possibili taglie. Ovviamente per i costumi, gli altri oggetti che vi faccio vedere, seguite sempre la guida delle taglie del venditore. Inoltre vi avevo già fatto vedere nel video precedente la fascia di neoprene per coprire le orecchie, questa la possiamo utilizzare quando vogliamo, non è molto pesante, è mezzo millimetro il neoprene. In aggiunta a questo, quando l'acqua si raffredda un pochino, prima di passare a più neoprene, il primo pezzo di neoprene che indosso è questo costume, il neoprene da due millimetri e mezzo. Questo ci dà un assetto positivo, ci fa galleggiare, però questo galleggiamento è soltanto relativo alla parte che copre, quindi pancia, schiena, petto, tendono a galleggiare un pochino di più, quindi l'assetto non è molto modificato, abbiamo una completa libertà di movimento e tutte le parti più importanti, vitali, sono protette dal freddo. Il costo di questo costume al momento è alto, è di 80 euro su Amazon, però io l'ho preso in offerta sotto i 40 euro, se non mi sbaglio è un'offerta a 35 euro, quindi in questo modo io sono già completamente vestita con 60 euro addosso e sono completamente coperta, quindi comunque ho speso meno di una muta, i materiali sono più resistenti, in più non è detto che si rompe contemporaneamente il calzare, il guantino, il costume neoprene, quindi abbiamo varie chance di utilizzare gli stessi oggetti per più tempo, nel mio caso in particolare questo costume ce l'ho da almeno 5 anni e continuo a usare sempre lo stesso costume. In più utilizzo spesso il pantalone che è semplicemente un fuso foderato in filpa, in pile e all'esterno è liscio, quindi come licra, di modo che ci permette di scivolare e questo era di Decathlon, una marca Calenji, dovrebbe costare intorno ai 20 euro, non riesco a ritrovare lo stesso modello, anzi se qualcuno di voi lo trova mi fa un favore se mi indica dove sta. Questo anche, prendetelo un po' più stretto di quello che usate normalmente, così se poi si dovesse slabrare potete continuare ad utilizzarlo anche dopo che si è slabrato, vi protegge tanto dal freddo anche se fa entrare tutta l'acqua e non galleggia affatto, anzi vi darà un assetto leggermente negativo, quindi va bene anche in combinazione con i calzari, perché i calzari vi fanno galleggiare, il pantalone vi fa affondare e quindi rimanete in assetto neutro. Il vantaggio dell'assetto neutro è anche che riuscite a fare correttamente tutti gli stili, quindi se anche volete nuotare a rana, se avete un assetto neutro ci riuscite, se avete i piedi fuori dall'acqua state un po' in difficoltà. Questo pantalone qui, il fuso, lo utilizzo spesso in combinazione con una semplice maglietta di neoprene. La cosa importante di queste magliette di neoprene è che sono molto elastiche, ok? Trovate questi oggetti cercando magliette da surf, che hanno questa caratteristica di essere veramente molto elastiche e sottili, queste di un millimetro, un millimetro. Le trovate anche di due millimetri, due millimetri e mezzo a seconda di quello che cercate. Insieme alla maglietta e al fuso metto sempre da sopra per non far muovere la maglietta il costume di neoprene, sia per un maggiore calore, sia anche perché non vi fa muovere la maglietta, altrimenti se sale mentre nuotate vi sta scomoda. In alternativa, se volete utilizzare un solo oggetto da sopra il pantalone, esistono sempre fra gli oggetti da surf questi mutini, che quindi hanno la parte di sotto e quindi mantengono il pantalone fermo. Sono tutti di due millimetri, di due millimetri questo qua, quindi vi dà anche alle braccia lo stesso calore che avete anche sulla pancia. Il costo di questi mutini è intorno ai 70-80 euro e anche la maglietta, se non la trovate in offerta, può arrivare a costare questa cifra, però se avete pazienza e cercate le offerte, riuscite a trovarli a un prezzo molto più basso. Io la maglietta l'avevo presa sotto i 30 euro, sia la maglietta che il mutino l'ho comprata su private sport shop, che vende un po' cose sportive di varie marche, di vari sport. Per quanto riguarda il mutino vi voglio aggiungere un'indicazione che è molto comodo se la cerniera è lunga, in particolare il modello che avevo acquistato precedentemente aveva la cerniera un tantino più lunga e quindi mi era molto comodo. Se la cerniera accorta, come in questo caso, potreste avere bisogno di qualcuno che vi dà una mano a sfilare le spalle perché si apre giusto fin qui non arriva giù e quindi se non avete abbastanza mobilità non riuscite a sfilarla. In più, se proprio fa freddo, indosso il pantalone di una muta da pesca. Queste sono di 3 mm, questa in particolare, marca Omer, ma trovate in questo caso tantissime, tantissime marche, potete cercare o semplicemente pantaloni neoprene, ne esistono vari, oppure pantaloni di muta da pesca e trovate soltanto il pantalone al costo circa di 50 euro. Il vantaggio di utilizzare questo è che copre fin qui, quindi se anche volete sopra stare leggeri, quindi con la maglietta e il costumino con la zip, avete comunque pancia e schiena coperta da molti strati, molti di più di quelli che vi fornisce una standard muta da nuoto standard. In caso di freddo, potete indossare la muta, il pantalone della muta, il costumino con la zip di 2 mm e addirittura aggiungere sopra questo corpetto completo di cappuccio, questo è di 2 mm, questo qui è un corpetto che si compra da Decathlon, la marca Subea e il costo di questo si aggira sempre intorno ai 20 euro, quindi in questo caso vi siete coperti tantissimo e se prendete le cose in offerta su 130 euro avete tre pezzi differenti che potete usare in varie combinazioni diverse e quindi che costano quanto una muta base o sicuramente non una muta di alto livello. Ovviamente questi oggetti non vanno utilizzati cercando una performance perché spesso sono non perfettamente lisci sotto al braccio eccetera, quindi se state guardando questo video cercando una soluzione per andare a nuotare forte in alternativa alla muta, non è questa la soluzione, questo è un modo per potersi vestire in maniera comoda, economica e per non avere l'assetto da muta. In particolare notate che se uscite di casa con i leggings tranquillamente la maglietta e il cappotto addosso state andando a mare tranquillamente ad inverno e potete prima fare tutte le vostre cose e poi andare a mare. La maglietta o questo mutino sono molto rapidi da mettere quindi non prendete neanche freddo in spiaggia come vi avevo fatto vedere nel video precedente che se non siete rapidi prendete freddo ancora prima di entrare in acqua. Con questo è tutto spero che il video vi sia stato utile, mi raccomando mettete mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sul campanellino per avere le notifiche degli ulteriori video e per favore stavolta mettete i commenti se avete bisogno di qualche indicazione in più e sarò lieta di darvene. Se trovate questo pantalone uguale mi dite dove trovarlo per favore. Grazie, a presto!